Ehi amico, ehi amico, no ma questo è Sanchez ragazzi, scusate, scusate, ogni tanto troviamo delle introduzioni un po' diverse per i miei video YouTube, mamma mia, correnti d'aria, sono tornate le correnti d'aria, no questo è il video per l'analisi di Cagliari Inter 0-2, spero di Pavard, di riuscire a portarlo in fondo, Pavard, Pavard, scusate, purtroppo il cronista deve essere sempre presente anche se non sta bene, allora Cagliari Inter, allora ve l'ho detto, io i giocatori li do per acquisiti soltanto quando sono acquisiti e solo quando c'è un comunicato ufficiale, quindi ci sarà tutto il tempo per parlare di un eventuale nuovo acquisto dell'Inter, ci sarà tutto il tempo anche di pubblicare 5 o 6 per di giorno che mi sono tenuto da parte, perché nel caso l'Inter dovesse completare l'acquisto del difensore francese campion del mondo, a proposito di quelli che non hanno loro gli occhi per piangere ma ti dicono sempre voi interisti non avete i soldi, sì sì non avremo i soldi, resta il fatto che Pavard sarebbe il colpo più costoso realizzato nella sessione estiva di Calcio Mercato 2023. Lo so che tutti gli altri sono ricchissimi, mamma mia come sono ricchi tutti gli altri e poi vengono i commercialisti, i social commercialisti a farti le pulci sulla formula di pagamento, no? Vabbè però è chiaro che non stiamo più nella pelle ma dovete stare calmi, tra il calmo, il molto calmo e il calmissimo ragazzi, anche perché io... Benjamin! 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 Io sono a Milano in centro e qui chiamo Benjamin ma non risponde, risponderà in serata? Chi può saperlo? Chi può saperlo? E comunque ragazzi si parla di giocatori acquisiti solo quando sono acquisiti. Quante volte l'ho detto? Tre? Bene. Adesso passiamo a Pavard, passiamo naturalmente su Cagliari Inter. È stata una buona prova, è stata una buona prova, io il giorno dopo non faccio più le pagelle perché sono noioso e faccio sempre i top e i flop, però francamente come col Monza qua di flop, amici miei, io non ne ho visti. C'è tutti, anche i subentrati, comunque sopra la sufficienza. Vogliamo parlare particolarmente bene di qualcuno? E parliamone. Turan, secondo me, ha fatto un'ottima partita, anche se non ha fatto gol, ha avviato lui l'azione comunque del 2-0, ha fatto del 2-0 di Lautaro e ha fatto l'assist per l'1-0 di Dumfries. Tra i top ci metto anche Dumfries perché è giusto riconoscergli, insomma, un miglioramento sensibile. Vedete che a tenere i giocatori invece che a bocciarli subito. Poi puoi assistere anche a dei miglioramenti. Se la gente fosse paziente, già fatico io ad averne, almeno voi cercate di avere un po' di pazienza invece di bocciare subito questo o quell'altro. devo dire che invece andiamo avanti con i top perché qui Cialanoglu, ragazzi Cialanoglu ormai è un giocatore per carità, l'avversario era quella che era, ma anche quel recupero difensivo in scivolata che ha fatto, tanta roba eh. Quindi devo metterlo anche lui tra i top. Qui Dumfries, Cialanoglu, Lautaro, già tre gol, Turan, Di Marco, perché Di Marco non può, Bastoni, perché Auristanio il nostro ex non l'ha mai vista. Se vogliamo mettiamoci anche Sommer per la parata su Azzi al novantesimo. Insomma qui parlare male di qualcuno bisogna chiamare qualche intertriste. Ci deve essere qualche intertriste che viene qui e parla male di qualcuno perché io francamente ripeto l'avversario era quello che era, ma non riesco a parlare male di qualcuno. E bisogna parlare male di qualcuno a tutti i costi. Eh scusate. E voi direte gli avversari, ma gli avversari ve l'ho già detto, gli avversari sono stati tutto sommato morbidi anche per altri e sono stati tutto sommato morbidi anche anche nell'avvio dell'anno scorso. Anche nell'avvio dell'anno scorso c'era il Lecce, una neopromossa come il Cagliari quest'anno, c'era lo Spezia e i risultati ci davano ragione, ma il gioco, l'atteggiamento, la consapevolezza della squadra? Secondo me no. E quindi c'è un miglioramento evidente. Adesso far tanti discorsi qui quando siamo soltanto dopo due giornate, dopo 180 minuti è un po' difficile. Ripeto, io credo che l'Inter possa solo migliorare. Sono contento che a un certo punto sia entrato anche Sensi, perché io vi ho sempre fatto cronaca, vi ho sempre detto che l'Inter aveva in animo eventualmente di prendere un sesto centrocampista diverso da Sensi. Però è anche vero che ormai passano i giorni di mercato, 48 ore, e francamente di offerte per Sensi non ne sono arrivate. Ora si tratta di sistemare, al di là dei suoi guai fisici, Stefano Sensi, dal punto di vista contrattuale. Perché Dio non voglia che quest'anno, anzi speriamo, abbia un'annata positiva senza infortuni in cui c'è, risponde presente quando ti serve e l'anno prossimo rischi di perderlo a zero. Quindi la soluzione che avrebbero in animo in società, anche se si aspettano ovviamente 48 ore fino alle 20 del 31 agosto, poi il mercato sarà chiuso, a parte che poi c'è la sessione di gennaio, anche lì si può discutere ancora, non è una cosa velocissima. Però direi che se Sensi dovesse rispondere bene in questi primi tre mesi di campionato, beh si può studiare un rinnovo, un rinnovo ovviamente alle condizioni dell'Inter. L'unica cosa che a me viene in mente, visto che Sensi come ingaggio, era ancora all'epoca di Conte, è piuttosto alto, la cosa che mi viene in mente sarebbe di dargli un pochino di più e magari fare un secondo anno. Questo mi viene in mente, cioè portare la scadenza di Sensi dal 2024 al 2025. Questa devo dire che mi sembra un'ipotesi insomma plausibile, insomma credo che il ragazzo comunque debba anche essere riconoscente per il fatto che è vero che l'Inter lo cederebbe se arrivasse un'offerta e andrebbe su un altro centrocampista. Ma insomma prendi al balzo, la vita è fatta di sliding doors, lo dico sempre. Ci abbiamo Lukaku e Dybala che qualcuno sognava fossero il tandem d'attacco dell'Inter, sono diventati il tandem d'attacco della Roma. Cioè la vita è fatta, purtroppo o per fortuna, di porte girevoli. Tutto sommato, con Sensi, mancano 48 ore, se non arriva nulla resta all'Inter e tanto vale che ci resti da giocatore contratualizzato. Questo è il mio giudizio, ma all'Inter non sono stupidi che qualcuno creda di essere più bravo lui a costruire le squadre di calcio, sia la Playstation. E quindi, insomma, questo è il discorso Sensi. Quindi non ho da darvi flop per Cagliari Inter, ma solo top, quindi tutte pagelle buone, ma ripeto, preferisco un po' i giudizi e niente, poi nel prossimo video editoriale vediamo che cosa accade, perché ne parliamo, insomma, ne parliamo, ricordiamo sempre che la parola più importante al calcio mercato non è mai la prima, ma l'ultima, perché l'ultima è quella del comunicato ufficiale. Viva l'Inter e mi raccomando, state coperti perché c'è un'aria di Pavar, c'è l'aria di Pavar, insomma. Ciao a tutti. Viva l'Inter!